È tornata l'Aquila d'Oro, la storica pizzeria di Corso Principe Amedeo a Cava dei Tirreni. Vieni all'Aquila d'Oro, una tradizione che si rinnova! Un programma ricco e adatto a grandi e piccini, quello dedicato alle festività natalizie a Cava dei Tirreni. Un cartellone di eventi cominciati lo scorso 2 dicembre con l'accensione dell'elegante e maestoso albero situato in piazza Vittorio Emanuele III e che si protrarrà fino a metà gennaio, proponendo a cittadini e turisti un variegato ventaio di attrattive. Già da qualche settimana, infatti, per il caratteristico borgo porticato si respira l'area magica del Natale, complici anche le luminarie e le caratteristiche casette di legno che ospitano in questo periodo i mercatini di Natale. L'amministrazione in Serballi ha pensato poi anche di rimodulare la Notte Bianca. Di fatti, l'evento del 5 gennaio sarà intriso di iniziative rivolte ai giovani e ai giovanissimi, senza trascurare il pubblico più adulto, portando in piazza un cantautore, paroliere e poeta, stimato e molto amato all'interno del panorama della musica italiana, Roberto Vecchioni. La Notte Bianca per noi è anche un punto di forza per la nostra città. Non ci dimentichiamo che la Notte Bianca Cavese è una fra le più importanti d'Italia, è fra le prime città cava che ha organizzato la Notte Bianca. Dopo Roma è stata cava, quindi ci siamo sempre distinti per questo. Un evento che inaugura i saldi, i saldi invernali, e quindi molti commercianti, molte famiglie aspettano questo giorno. Quindi noi la stiamo anche qui, la stiamo rimodulando, perché oggi in ogni città si fa la classica Notte Bianca e la nostra non sarà la classica Notte Bianca che si è vista negli anni, ma la stiamo rimodulando tutta, sempre dedicata ai bambini, sempre dedicata alle famiglie, sempre dedicata ai giovani e puntiamo molto ad un target di qualità, di famiglie. Faremo delle aree bimbi proprio quest'anno, faremo un'area proprio per i bimbi, con un artista sempre dedicato ai bimbi, quindi non ci sarà più la classica animazione che passeggia lungo il corso fra le persone che non si riesce neppure a passare perché arrivano milioni di persone sul territorio, ma ci sarà un'area bimbi quest'anno. Poi ci sarà il cantante, diciamo che negli anni era il cantante conclusivo della Notte Bianca, lo facciamo in prima serata perché sarà un cantante dedicato alle famiglie per portare un target di qualità. Poi tutta la serata, tutta la notte sarà dedicata ai giovani con grandi artisti e soprattutto stiamo pensando di dare spazio a tutti i gruppi locali cavesi, quindi coinvolgere i gruppi locali cavesi per una grande Notte Bianca, per dare spazio ai giovani del nostro territorio e una cornice di pubblico meravigliosa, quindi abbiamo rimodulato tutta la Notte Bianca.